E adesso vi faccio vedere come farlo in tre turni Easy Tutorial Questa è la prima volta pure che lo provo Luca tu non hai visto il mio video in uso allora La drosaria è l'onipotente Wow Ok la mano Decende Si fa uno Si fa due Si fa tre Ultrash di king Mano De merda Infatti sarebbe da resettare Però ci provo lo stesso Per il content Certo è solo per te Però anzi già da resettare che non ho pescato Mi bastava una carta di god Purtroppo non è andata così Mi dicono dalla regia Un po' di sfiga ho avuto Un po' di sfiga ho avuto Non credo di shot Il po' di sfiga ho avuto No, uno di vita Scam Scam Tutto per voi signori Solo per voi Scam